Prendiamo di fermarsi a vent'anni, sarebbe il momento giusto dopo i vent'anni e ci stava una vittoria. Faremo di tutto per vincere, sapendo che come tutte le partite a questo livello sono estremamente difficili. Il precedente di Coppa Italia magari fa testo fino a un certo punto, però è una squadra con qualità, una squadra che ha perso anche sabato, che ha passato il turno in Coppa Italia nelle quarti di finale. E' una squadra che ha molta qualità, bisogna essere bravi a limitarle questa qualità. Io credo che noi siamo in linea totalmente, ci mancherà un punto o due. E' chiaro, con due punti in più, uno magari no, ma con due punti in più la serie era molto diversa, ma però io credo che siamo in linea con quello che pensavamo e diciamo come sono andate le gare e possiamo anche avere un pizzio di, come si dice, di rammarico, perché lo potevamo avere davvero questo punto o due in più con le prestazioni che abbiamo fatto. Manca un po' di buona sorte. E' un pizzio sicuramente anche quella, un pizzio di buona sorte, sicuramente credo averla avuto una volta sola nelle 15 partite fatte. Una volta sola su 15, insomma, è un po' poco. Oh sì.